Una delle necessità che si trova spesso ad avere è quella di dover realizzare un DCP per il cinema, ossia un file che venga letto dai proiettori del cinema per ad esempio uno spot pubblicitario che abbiamo realizzato. Beh, Doppler Pro ci dà la possibilità di esportare un file DCP o meglio una cartella DCP stesso dal nostro motore di esportazione. Andando nel nostro pannello delle impostazioni e esportazioni avremo la possibilità di decidere di utilizzare Raptor DCP. Raptor DCP è un plugin esterno di Adobe, quindi non è sviluppato da Adobe stessa, ma che grazie ad un accordo tra le varie aziende è disponibile in una versione base all'interno di Adobe Premiere Pro che ci permette di esportare a 24 fotogrammi al secondo o a 25. Qui le impostazioni sono leggermente diverse. In primis non possiamo variare la codifica del video che, per un DCP, è una sequenza di file in JPEG 2000 codificati in un file MXF. Sembra un enorme parolone, ma non è assolutamente così. Quindi, impostazioni codifica video, non possiamo toccare nulla. Stessa cosa per la codifica audio, che non è compressa. L'unica scelta è decidere se deve essere un'esportazione in stereo o in 5.1. Nella parte video, quello che possiamo decidere è esportare a 24 fotogrammi al secondo o a 25. e le dimensioni del nostro video. Perché abbiamo degli standard da dover rispettare quando andiamo al cinema. E non esiste il 1920x1080, ma esistono quelle che sono definite il flat, il full e lo scope. Il flat è 1998x1080 ed è quello più rettangolare per intenderci. Abbiamo poi il full, che è leggermente tagliato, e abbiamo lo scope, che è il formato 2.35 classico del cinema. Ora, come vedete, quando io vado a cambiare questi parametri, l'immagine viene ritagliata, o meglio, viene scalata per riempire il mio fotogramma. Nel caso, ad esempio, del flat, che è un caso molto particolare, possiamo andare a decidere in questa tendina qui in alto le impostazioni e decidere di scalare per adattare. Quindi scalerà il lato più corto e, come vedete, genererà quelle che sono delle bande nere a destra e sinistra. Mentre, se andiamo a scalare per riempire, lui andrà a scalare l'immagine per riempire tutto il fotogramma. Altra opzione sarebbe a lunga per riempire, ma andrà a strecciare quella che è la nostra immagine. Questa cosa la notiamo molto di più se andiamo a selezionare lo scope, andrà proprio a schiacciare la nostra immagine. Mentre, scala adatta, imposterà l'immagine al centro e scala per riempire andrà a tagliare sopra e sotto la nostra immagine. Individuati questi valori, abbiamo un bitrate fisso di 250 Mbps perché questo è lo standard. Non c'è null'altro da impostare se non il file d'uscita. Una volta fatto, premiamo Export e vediamo che cosa ci genera. Terminata l'esportazione, vediamo che cosa è esportato ad un Premiere Pro perché è importante questo concetto. A differenza delle altre esportazioni, che possono essere delle sequenze d'immagine o dei file video, quindi delle clip video, il DCP non è altro che una cartella. Questa cartella alla fine avrà, per approccio, aggiunge l'estensione .dcp, ma essendo una cartella possiamo tranquillamente andare a cancellarla. All'interno della nostra cartella avremo una serie di file, uno dedicato al video, uno dedicato all'audio e una serie di file importantissime da non toccare e neanche da rinominare tra le altre cose per la messa in play del nostro file DCP. Perché? Il DCP è un acronimo e sta per Digital Cinema Package. Infatti questo è un pacchetto dedicato ai cinema digitali. Quello che infatti dovremo consegnare al nostro cinema o a chi ci ha richiesto il DCP è esattamente questa cartella, con tutti i suoi file all'interno. Così facendo abbiamo la possibilità di mettere in play il nostro DCP in una sala cinematografica.